Ciao bambini! Oggi vi voglio far vedere che si può fare ginnastica anche da seduti. Attenti! Dovete prendere un foglio, trasformarlo in un quadrato, io l'ho fatto 20x20, piegarlo in questo modo, poi piegarlo così, poi lo girate e lo piegate in questo modo, lo aprite, lo piegate a metà, lo ripiegate a metà, poi dovete fare una specie di triangolo così, anche dall'altra parte, così, idem dall'altra parte, così, poi da quest'altra parte, e arriverete a questo punto. A questo punto, su ogni, praticamente, lato del quadrato, dovrete disegnare un omino, sopra con le braccia aperte, sotto con le gambe aperte. Piegate i lati così, lo disegnate con le gambe dritte e con le braccia in alto, e poi potete giocare a trasformare il vostro omino con un braccio allargato e un braccio in su, con le gambe giù, due gambe, una su e una giù, due braccia, una su e una giù, oppure potete farlo con un braccio su, due gambe aperte, eccetera, e potete giocare a fargli fare gli esercizi più strampalati. Ciao, buon divertimento!